Un momento importante per la vita associativa dell'azione cattolica di Ucesana. Sabato 4 luglio, nella chiesa di Bellocchi, il Vescovo Armando ha consegnato le nomine ai presidenti parrocchiali, un momento celebrato in presenza, nelle modalità possibili, perché si potesse esprimere anche l'importanza delle persone, dell'incontro e della condivisione. Il Vescovo, nell'Omelia, ha ricordato le qualità umane dell'educatore, il bisogno di identità, di amare e di gestire l'autorità per far crescere, declinato in diverse sfaccettature, un'autorevolezza che nasce dalla disponibilità a pagare di persona per la verità. È stato anche il primo momento ufficiale per il nuovo assistente unitario Don Giuseppe Cavoli e il nuovo presidente Laura Giombetti. Dare senso, sollecitare una partecipazione viva nella vita di fede, dare linfa nuova alla propria presenza e impegno, è la prospettiva che si apre in maniera del tutto particolare in questo tempo, che chiede con urgenza, creatività, energia e legami. I membri del Consiglio di Cesano hanno regalato a Laura Giombetti un bonsai, un augurio per qualcosa da mantenere vivo, di cui aver cura, che ha in sé bellezza e pienezza.